Comincio di stamattina di la capiglia e azione. Vorrei dirvi una cosa. Non vorrei che pensaste che ve la dico solamente perché me ne sto andando. Vi facciamo. Mamma? Papà? Sono un diverso. No, sono un diverso no. Mamma? Papà? Sono un omosessuale. E che cazzo mi rido? No. Mamma? Papà? Sono gay? Sono gay? Sono... Sono gay? Ci sto a provare, no. Mamma? Papà? Eppure voi però. Mamma? Papà? Sono un omosessuale. Oddio che orrore. Bruttissimo. Più... Mamma? Mamma? Papà? Sono gay? È una cosa deciso. Mamma? Papà? Sono omosessuale. Mbè? Mbè? Mamma? Papà? Nonna? Bernard? Pistone? Saman? Tanto non mi sentirà. Vi ho riunito qui? Tutti quanti? Che sono prete? Mamma, papà, sono gay? Troppa spinta. Mamma? Papà? Sono gay? Sì. Mamma? Papà? Sono gay? Sono gay? Sono... Gay? S-s-gay? Sono... Sono... Sono gay? Sono... Gay? Sono... Sono gay? Tutti insieme. sono gay sono gay sono mamma cioè dai si vede pure un po' mamma papà sono omosessuale mamma papà sono gay e sto andando in Spagna perché mi voglio sposare con un uomo e poi scappo velocissimo velocissimo non li vedo più eccolo mamma papà sono omosessuale mamma papà sono un uricchione pa che devo fare così lo capisce no uricchione sono parole mie ma pa soffrocio e me ne vanto tiè no mannaggia mamma papà sono una lella so lella sì beh che è ciò che me manca mamma non ti viene manco mamma mamma guardami ormai sono un uomo e mi piacciono gli uomini e che mi dice quella amore no no gay gay fiero gay vincente gay vai infatti ah già sarebbe l'altra inquadratura nice ok se non ho capito io qua più la pizza vabbè per fare niente ma chi sei preoccupato se stavo a preoccupare ormai me lo do sempre io me lo do io e lo commento gay la so gay scusa gay morito ma si che te frega te stai a pisci a sotto brutto sadico bastardo quindi modo una volta di qua una volta di qua ah ma io li do così Iva non so se te ne sei accorto so sempre io me lo do e lo do l'altro no aspetta io non ho credito ok 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 ma dai scusa perché non capisco dopo il secondo ok ok il secondo sguardo ma si sai caro l'importante è che vi amiate il resto non conta avete la benedizione mia del mio adorato marito eh però mi raccomando non mi trattare male il mio piccolino non lo farei mai signora eh lo so me l'ha detto Mattia che sei tanto buono 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 scusa ma adesso vado a lezione di equitazione che sai faccio tardi viva gli stalloni bene signora spero di vederla presto e mi saluti anche suo marito presenterò come no arrivederci come sono andato? bene sono bravo da bevuta e che ne so speriamo di sì ma sì dai vaffanculo già che chiami? mi padre grazie a tutti grazie a tutti